Ti prego, aiutami! Trova l'uomo che mi ha ridotto così. Dovrei chiamarti un medico. No, non c'è tempo. L'uomo che mi ha fatto questo sta cercando mia moglie e mia figlia. Se le trova, Dio solo sa cosa farà. Se ti sta a cuore la giustizia, amico, ti prego, non lasciare che quel mostro faccia del male alla mia famiglia. Me ne occuperò io. No, non c'è tempo. Non hanno risparmiato neanche i cammelli. Ehi, voi! Potreste fare del male a qualcuno! Arroganti. Sì, sì. Va. Che diavolo intende? Sì, sì. Hai. Grazie a tutti. Ora! Fermatelo! Quello ha un altro mercenario travo. In qualche modo... Puoi ingannare la storia di onore! False nozioni di giustizia e voci di venerdere... Puoi portare tu al tarama. Questi pazzi assassini non sono altro che pazzi assassini! Non c'è legge che tenta per quello di Dio! E' fatta! Come ti senti ora? Le mie ferite guariranno. E il mio cuore è sollevato sapendo che la mia famiglia è salva. Come posso ripagarti? Unisciti a noi quando ti sentirai meglio. Un uomo col tuo senso dell'onore ci farà comodo. Evet lo farò. Stan è certo. Un uomo col tuo senso. Un uomo col tuo senso. Un uomo col tuo senso.